Siracusa sfonda la porta di casa della sua ex. Carabinieri arrestano Stalker Siracusano. Si è concluso in carcere il raptus di violenza e gelosia scatenato da Antonio Nicosia, Siracusano di 29 anni. L'uomo già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, eppure essendo in atto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Siracusa con prescrizione di non uscire durante l'orario notturno, è uscito di casa nottetempo per andare a fare visita alla sua ex convivente con la quale aveva intenzione di intavolare una disputa non certo priva di criticità. L'uomo infatti aveva intenzione di chiedere, anzi pretendere da lei del denaro a titolo di risarcimento per aver interrotto unilateralmente la loro relazione sentimentale e averne intrapresa una nuova. Perciò anche in violazione alle note norme sanitarie in vigore, il cosiddetto coprifuoco si è regato presso l'abitazione della donna con la quale è subito donata un'accesa discussione condita da urla e minacce all'indirizzo della malcapitata. I vicini hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti prontamente mentre ormai la questione stava degenerando. Infatti il soggetto dopo aver sfondato la porta dell'abitazione stava inveendo contro la povera donna e le due pattuglie dei carabinieri intervenute sul posto lo hanno dovuto ammanattare per riuscire ad allontanarlo poiché malgrado la loro presenza continuava in perterrito a minacciare di morte la sua vittima molto spaventata. I carabinieri hanno proceduto al suo arresto con l'accusa di atti persecutori, tentate, estorsione e resistenza pubblico ufficiale e ha esplettato le formalità di diritto lo hanno posto a disposizione dell'autorità giudiziaria conducendolo presso la casa circondariale Cavadonna.